Grazie, non è un compito facile, io ho provato come chi mi ha preceduto a ragionare un po' a che contributo poter dare ma i miei foglietti che mi ero preparato diligentemente sono stati rivisti, rivisitati, annotati, moltiplicati, diversificati perché gli interventi prima di me sono stati estremamente stimolanti e quindi non so adesso che sono riuscito a dire perché dovrò inserire in quello che pensavo veramente una serie di ragionamenti importanti. Io intanto ovviamente ringrazio il sindaco Franco Caponi, ci lega come dire un rapporto di amicizia e di territorialità nata sull'emergenza, ringrazio assoluto il prefetto Ferdani per la sua presenza e il vescovo Marconi ovviamente tutte le presenze importanti, il presidente della Camera di Commercio, il segretario generale di Non Camera e ovviamente un ringraziamento a te non solo per il rapporto, privilegiato che mi hai consentito quando eri presidente della Commissione Ambiente della Camera abbiamo lavorato in un momento difficile per questo territorio, a Fabio Renzi con il quale abbiamo fatto tanti ragionamenti. Grazie perché veramente c'è bisogno di alzare lo sguardo, c'è bisogno di alzare la testa e noi come sistema di protezione civile facciamo un po' fatica perché il Paese rincorre le emergenze e quindi facciamo grande fatica a fermarci un attimo a riflettere. Io stesso faccio molta fatica alcune volte a far passare alcuni ragionamenti che vorrei passassero magari quando si parla di prevenzione, io scherzosamente anche in qualche intervista dico io riesco a parlare di prevenzione solo in emergenza, nel senso che se pongo un tema di prevenzione fuori da un contesto emergenziale non c'è assolutamente nessuno spazio. Quando si parla di emergenza allora con la scusa di dire quello che si poteva fare prima per cui non abbiamo fatto allora riesce a far passare qualche tema di prevenzione, di visione e quindi ragionamenti spazi come quello che Simbola fa da dieci anni consentono invece di alzare lo sguardo e di parlare della prevenzione del Paese in senso più largo, ben al di là di quello che è il compito che il sistema di protezione civile svolge. Allora partiamo, anche io parto un po' dal titolo, insomma chi siamo? Ovviamente l'ho spaccato anche di informazioni, di dati che ci è stato fornito prima, la visione più ampia che ci ha dato Sua Eccellenza il Vescovo. Per me è fondamentale il tema del chi siamo, ma è fondamentale perché noi lo colleghiamo ad un altro termine per noi importante, è stato citato in qualche relazione, che è il tema della consapevolezza. Perché il tema che siamo lo leggo anche chi pensiamo di essere, perché alcune volte noi pensiamo di essere una cosa ma siamo una roba diversa ed emerge in maniera chiara da quei dati che fluttano, che cambiano, perché quei dati andrebbero come dire, io ho una formazione tecnica seppur come dire datata, andrebbe messo tra parentesi la T, cioè variano nel tempo. Quindi noi dovremmo dire chi siamo in quell'istante, perché quello stesso intervistato che oggi ti dà una risposta, domani, compulsato in un contesto diverso, ti potrebbe portare ad un dato completamente diverso. Allora il chi siamo, ovviamente io non sono in grado di dire chi siamo, però è fondamentale capire il punto di partenza e che consapevolezza abbiamo di noi stessi. Talvolta io combatto, si parla spesso di modelli eccetera, ogni tanto prendiamo il modello che va bene per qualche altra comunità, per qualche altra impostazione e cerchiamo di farcelo calare su di noi. Mentre invece questo modello non funziona perché il modello è anche frutto di chi siamo e da dove partiamo. E allora queste cose che magari funzionano in tanti contesti da noi poi hanno necessità invece di essere come dire digeriti, c'è questo incontro tra lo sviluppo dal basso e il posizionamento dall'alto. Allora più che su chi siamo, sul quale ripeto, in maniera più esatta di me, si possiamo dare dettagli, io dal mio osservatorio posso provare a vedere come siamo. Cioè che paese vedo io dal sistema di protezione civile che comunque mi dà il privilegio di confrontarmi con dei territori veramente a tutto tondo, con le eccellenze del nostro paese e anche con qualche nostra miseria perché ne abbiamo ma devo dire che in questo senso come tutti i popoli e come tutte le comunità. Intanto partiamo dalle cose positive. Noi siamo un paese che certamente nel momento in cui, e questo ci capita con grande frequenza, quell'aspetto emergenziale sana quelle incongruenze che vediamo invece in tempi ordinari. E quindi siamo certamente un paese in grado di esprimere una grande solidarietà, a termine, sicuramente a termine. Abbiamo una grande disponibilità, abbiamo una grande generosità, abbiamo diverse modi di eccellenze. Io ho, ripeto, la fortuna di girare veramente posti ameni, lontani, e in ogni posto non posso dire di non trovare un'eccellenza che può essere dall'aspetto culturale all'aspetto gastronomico, al racconto, non c'è un posto dove un santo non si sia fermato a fare non so quale miracolo, ogni posto ha una sua connotazione specifica. Quindi questo ci pone in una differenzazione molto forte. Noi siamo molto diversi come paese, ma estremamente diversi, culturalmente diversi. Abbiamo linguaggi diversi. Se tu ti muovi nell'arco di 10 km, hai persone che parlano in qualche modo, in maniera diversa, e se si esprimono loro si riconoscono, noi no, ma loro si riconoscono come posizionamenti diversi. E questo ci porta ad avere un rapporto con il territorio, che è ancora molto intimo. Mi ha colpito molto il tema dell'Io Patchwork, perché la percezione che abbiamo noi è ancora invece di un attaccamento formidabile al territorio. Probabilmente sta cambiando, ma rispetto a altre visioni noi abbiamo ancora un attaccamento molto forte, molto identitario. E tra le altre cose sappiamo che questo attaccamento è proprio nell'aspetto emergenziale che viene esaltato. Quando accade qualche cosa, tutto ciò, la storia dei casali in queste terre, dove magari le seconde famiglie erano mai lasciate, nel momento in cui arriva il terremoto e butta giù tutto, tu riscopri che quello era un pezzo della tua famiglia, era un pezzo della tua identità, lo rivuovi e non capisci come sei stato disattento a quella comunicazione ancestrale che ti portava a quel territorio. E quindi improvvisamente, così come accade spesso, l'emergenza ti riporta ad esaltare le cose positive e qualche volta ovviamente anche le cose negative. Ora, questa frammentazione però, cosa ha portato nella nostra organizzazione? Ha portato un'organizzazione amministrativa, ma io direi anche sociale rispetto ai dati che abbiamo. Io vorrei usare due termini, molto frazionata, ma con due termini in maniera da poter seguire l'andamento e il ragionamento su questi due termini. Un'organizzazione che definirei multilivello e multidisciplinare. Noi siamo un'organizzazione multilivello e multidisciplinare. Adesso suona anche molto bene, no? Figo, una cosa multilivello e multidisciplinare è una roba moderna, sembra una cosa positiva, però se poi questi livelli noi non li facciamo parlare insieme, se questa complessità di discipline noi non le mettiamo insieme, eccolo lì che un tema che può essere di connotazione di una struttura sociale e di un'organizzazione improvvisamente diventa debolissima. E quindi mentre nel sistema di protezione civile, e vorrei partire da questo perché ovviamente è la visione che ho in maniera più chiara, questo problema del multilivello e del multidisciplinare è stato necessariamente affrontato in termini operativi, perché quando tu hai un'emergenza quella necessità di mettersi insieme è diventata storia nel nostro paese, no? Il 1980, la spinta della comunicazione, il presidente Pertini che è andato sul posto a dire ma non è possibile qua ognuno faccia come ci vuole gli pare, cioè bisogno, come dire, di unire la forza, no? Allora nel sistema di protezione civile, nella parte emergenziale del sistema, questa roba in qualche modo nel tempo, partendo dalle esperienze negative, si è risolto. Quindi improvvisamente il paese nel momento in cui c'è un dramma più vicino al tema di protezione civile, poi farei una breve riflessione sulla parte del Covid che ha inserito un paradigma nuovo, improvvisamente il paese riesce a trovare quell'unità del multilivello, e quindi scatta quel tema bellissimo, per me democratico, nell'idea di Giuseppe Zamberletti della sussidiarietà, no? Cioè l'ente amministrativo più vicino al territorio non ce la fa, il comune, allora interviene l'ente più ampio, l'ente provinciale, poi la parte regionale, fino a che a un certo punto interviene lo Stato centrale. Quindi questo tema di sussidiarietà che in emergenza oggettivamente funziona. Poi finita l'emergenza può non funzionare, perché la sussidiarietà è un termine bellissimo, poi c'è l'applicazione, no? È stato detto tra quello che scriviamo e poi come si applica, c'è un bel... Perché la sussidiarietà, che è un tema assolutamente bello, fantastico, di solidarietà, di spirito di coesione, se viene mal interpretato a un certo punto dice, beh, ma perché ci devo pensare io se c'è uno che viene, mi dà una mano e ci pensa lui, fino ad arrivare alle storture del passato in cui il livello nazionale, portando strumenti straordinari e portando soldi, andava sostanzialmente a impattare anche sull'ordinarietà. Questo è quello che è avvenuto anche nel momento in cui lo strumento performante diventa uno strumento poi per accelerare processi ordinari. Ora, il sistema in emergenza è questo, è questa camera di compensazione, io la vorrei chiamare così, perché poi ne sento tante, no? Ogni tanto esce fuori un articolo, non riusciamo a fare questa cosa, chiamate l'esercito della protezione civile, come se arrivasse, no? Questo non si sa, è entità a fare cosa. In realtà noi siamo una grande camera di compensazione, cioè noi nel momento in cui interveniamo, interveniamo per cercare di dare una solidità a quella forma di multidisciplinarità e multilivello. Perché parto da questo? Parto da questo perché passando al passaggio successivo, cosa possiamo fare noi per il Paese, no? e quindi quale esperienze noi possiamo portare, dovremmo cercare di capire come trasformare questa capacità che noi abbiamo nella parte straordinaria anche nell'ordinarietà. Questo sarebbe il tema poi reale che ci consente poi di fare tutte le cose che stiamo dicendo, no? La parte del PNRR, la parte dei fondi, è un tema l'opportunità, però c'è una modalità di azione. Come noi andiamo a finalizzare questa modalità di azione? E allora su questo io vi vorrei portare un esempio pratico. Si parla in questi giorni di siccità. Questi sono gli enti che si occupano di acqua in ordinarietà. Vabbè, Ministro della Transizione Ecologica ci mancherebbe con i distretti, eccetera. Il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, le infrastrutture importanti sulla parte... Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, l'acqua intesa come parte alimentare e zootecnica. Il Ministero del Gruppo Economico, quindi tutto ciò che è amministrazione relativamente alle industrie, le imprese. Il Ministero delle Economie e Finanze, vabbè, quello c'è sempre perché ovviamente è la nostra capacità di essere presenti. Le regioni, questo è solo il bacino del Po, quindi tutte le regioni del Nord, le autorità di bacino di Stretto Padano, le autorità di bacino di Stretto Alpe Orientale, l'Agenzia Interregionale per il Fiume, Aipo, l'Agenzia Italia Meteo, gli enti di ricerca per i dati, Istat, Ispra, Istituto Superiore di Sanità, il CNR, il CREA, i portatori di interessi, le autorità di rilegazione per l'energia e i reti ambienti, Utilitalia, Terna e Assoidrolet. Abbiamo capito che noi nell'ordinario abbiamo un problema di multidisciplinarità e abbiamo un problema di livello. Per questo poi nasce il commissario, che è personalmente la mia paura assoluta, cioè la necessità di dire no, allora qua c'è troppo, ma dobbiamo mettere tutti in capo ad una persona che mette ordine il concetto delle riforme. Allora, questo tema dell'unione dei ragionamenti in emergenza può avere un senso. Il tema di governare in maniera centrale alcuni processi che sono processi necessariamente lunghi, che sono nei processi necessariamente che hanno bisogno di una visione, secondo me, andiamo fuori strada. Cioè non possiamo immaginare che noi governiamo ancora una volta con l'errore del passato l'ordinario, perché questo si tratta dell'ordinario, con uno strumento che è invece uno strumento straordinario, cioè il potere commissariale di per sé è un potere straordinario. Allora, qual è la prospettiva sul quale noi dovremmo, credo, lavorare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi? E prendere atto che ci sono degli eventi, questo è uno, ho citato questo, ma ne potrei citare come dire tanti altri, anche il PNRR in qualche modo va su questa linea, ma su questo dico una parola dopo. Noi abbiamo delle situazioni, su queste situazioni certamente c'è un aspetto emergenziale, certamente c'è un aspetto sul quale bisogna operare come dire in via d'urgenza. Anche sul tema della siccità, certamente c'è un aspetto emergenziale, non a caso lunedì è stato dichiarato lo stato d'emergenza su cinque regioni, il bacino del Po, il bacino degli aeropridentali, stiamo vedendo altre situazioni, ma questo attiene a quello che possiamo fare nell'immediato, questo attiene a quel cerotto che noi possiamo mettere per evitare che la gente non abbia acqua in casa, che muoiano gli animali, o che ci sia il cuneo salino che interviene nel Po e distrugga le culture della parte finale del Po, se ci si riesce. E questo è un tema. Poi c'è un tema di visione, c'è un tema di programmazione, c'è un tema di pianificazione che è esattamente all'antitesi di quella frammentazione sul quale noi ragioniamo che sono i dati che ci ha dato il Presidente Pagnoncelli. C'è il tema di che Paese noi vogliamo sul tema risorsa acqua, che non è un tema emergenziale, anzi, è un tema sul quale c'è bisogno magari di confrontarci, di partire, di dibattere e poi decidere una visione che non sia solo la visione del PNRR. Io, scusate, sul PNRR continuo a dire che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, cioè era lo starter, è stato detto, è quel momento iniziale che poi si deve ricongiungere ad una visione di un Paese che non può mica finire nel 2026. Su questa roba noi dobbiamo avere visione molto più lunga di quella del PNRR. Poi il PNRR può essere lo spunto, può essere, come dire, anzi, è opportuno che ci sia, ma nell'ambito di un percorso che ha da più ampia visione è stata data la possibilità con uno spunto economico di iniziare quel percorso di visione. Se no noi lavoriamo per progetti, quindi finisce nel 2026, dopodiché nel 2027 entra il finanziamento ordinario e arrivederci e grazie e noi non continuiamo quel percorso di visione. Credo che su questo noi invece dobbiamo avere le idee molto più chiare, quindi cercare degli strumenti che in qualche modo mettano insieme quella capacità che noi abbiamo di coordinamento in emergenza, ma metterlo insieme nell'ordinario. E quali sono, è stato detto anche questo, quali sono quegli elementi sui quali noi dovremmo lavorare per consentire questa integrazione multidisciplinare e multilivello? Ce ne sarebbero tanti. Io ne individuerei due o tre che sono per me fondamentali nell'economia o dell'organizzazione di un Paese. Il primo è stato detto anche dall'On. Picerno in maniera ancora più ampia. Sicuramente c'è una questione di riequilibrio di poteri nell'ambito del nostro Paese. Cioè quella devoluzione non completa che è iniziata nel 2001 che prefigurava un Paese federale che poi non è mai diventato un Paese federale adesso siamo una roba rimasta a metà. Cioè noi non siamo un Paese completamente centrale non siamo un Paese completamente federale. E il Covid ce l'ha dimostrato. Perché anche lì non è che basta un decreto legge o un commissario o un Batman che trovi e trovi il problema per accentrare le competenze della sanità e della salute. Tu devi avere l'accentramento delle competenze ma poi devi avere anche le leve. Perché tu fai le norme ma le norme poi non danno nessun seguito. Quindi l'accentramento della competenza deve essere deve corrispondere alla conoscenza di ciò che accade sul territorio. Se tu per vent'anni hai fatto una politica territoriale sulla sanità che è diversificata sul territorio venti sanità regionali venti strutture diverse venti modalità di offrire servizio diverso poi non è che nomini il commissario e quello automaticamente riesce a portarti il servizio piemontese lombardo laziale calabrese siciliano e sardo allo stesso livello con le stesse procedure. Perché sono venti anni che hai abdicato a quell'omogeneizzazione lì. Quindi il primo punto è riequilibrare questi poteri territoriali e centrali. Il secondo aspetto che io vedo molto importante è un rapporto sano chiaro tra il mondo pubblico e il mondo privato. Questo è un tema che rimane sempre sullo sfondo guardate è un tema che noi abbiamo costantemente in emergenza e lo ritroviamo anche nell'ambito ordinario. Questo fatto che noi ancora col mondo privato si vabbè però poi c'è il mondo privato c'è l'interesse e quindi il mondo pubblico attenzione perché questo è un equilibrio che noi dobbiamo andare a trovare una forma di ragionamento diverso perché ci troviamo costantemente in questo meccanismo. Io ricordo come dire le discussioni con Giuseppe Zamberletti io non faccio mistero proprio nelle Marche venne con Giuseppe Zamberletti in una giornata fantastica quel vecchietto lo portammo in giro per tutto l'area del sisma nel 2016 io la sera ero distrutto lui piumpava come una cosa eccezionale e lui raccontava diceva quando io ho gestito nel 1980 io chiamai gli ingegneri della SIP e vennero 100 ingegneri della SIP e più 100 ingegneri della Fiat e mi aiutarono a fare questo meccanismo e io cercai di dirgli sì presidente d'accordo però la SIP non è più la SIP non è neanche più pubblica tra le altre cose lui poteva prendere l'ingegneri della SIP che era comunque telecomunicazione e fargli fare la parte infrastrutturale e qua tu devi prendere quello che è in grado oggi viviamo una specializzazione diversa ma questo per dire che il mondo tra il pubblico e il privato è un mondo che va equilibrato in ordinario il pubblico non ha più le risorse interne per poter fare dei passaggi anche come dire tecnologici di livello dobbiamo trovare una forma di equilibrio se no noi da soli non ce la facciamo più e questo è un altro tema si parla di semplificazione altro tema che vorrei evidenziare il tema della semplificazione guardate è un tema ricorrente ne abbiamo parlato tante volte anche con Ermete durante gli atti normativi si parte con un processo di semplificazione magari con un decreto d'urgenza poi si fanno una serie di passaggi parlamentari eccetera ci viene la paura come comunità la politica è espressione della comunità improvvisamente quella semplificazione diventa una complicazione ne potrei citare tanti di atti anche ultimi sull'emergenza ucraina dove bisognava fare gli accordi subito facciamo un decreto legge che snelliamo esce fuori il decreto legge che io per firmare quell'accordo devo andare alla quinta generazione a sapere se il pronipote dell'ultimo dell'associato ha avuto mai una denuncia eccetera che è giustissimo io non entro in questo meccanismo ma il processo di semplificazione deve essere collegato al tema della responsabilità o noi affrontiamo il processo di semplificazione a fianco ai processi di responsabilità oppure noi possiamo scrivere le norme che ci pare ma non andremo fino in fondo perché il tema normativo ha poi un'applicazione tecnico-burocratica dell'operatore che è l'impiegato comunale che è l'impiegato regionale che è l'impiegato statale che deve dare seguito a quel processo di semplificazione allora o noi poniamo sullo stesso piano la semplificazione e la responsabilità o noi possiamo scrivere tutte le belle norme che ci pare ma noi queste norme non le vedremo mai applicare anche qua porto un caso molto chiaro e molto puntuale quando ci fu ad agosto del 2016 il sisma noi il giorno dopo abbiamo fatto la prima ordinanza di protezione civile derogando a quelli che sono i limiti di spesa ovviamente non posso derogare a quelli europei ma a quelli nazionali sì il problema è che non firmava nessuno lo stesso intanto perché chi doveva firmare magari manco c'aveva più il comune ma anche avendo la possibilità qualcuno diceva sì vabbè io firmo ma poi quindi il tema della semplificazione se lo vogliamo affrontare seriamente e fino in fondo deve essere affiancato al tema della responsabilità l'ultima cosa ce ne sarebbero tante ma l'ultima cosa che io vorrei evidenziare l'ha detta in maniera molto più dettagliata di quello che potrei fare io me l'ha detto Nando Pagnoncelli non possiamo immaginare processi così importanti così rilevanti così diciamo culturalmente impattanti se non ci portiamo il cittadino dalla nostra parte questo è un come dire un mantra che vale lo dico scusatemi banalmente dalla tendopoli alle grandi scelte nazionali noi dobbiamo imparare a parlare ai nostri cittadini con la difficoltà dei social e del mondo di comunicazione che spesso amplifica o distorce ma è un tema sul quale ma lo dobbiamo fare perché non c'è alternativa non si possono vincere sfide epocali così importanti se noi non ragioniamo con i nostri cittadini l'esempio tipico ce l'ha dato anche il tema del covid e della vaccinazione cioè o tu convinci le persone la maggior parte delle persone che un certo tipo di percorso serva ad un certo tipo di obiettivo oppure tu puoi fare tutte le campagne di prevenzione che vuoi non buchi non arrivi perché semplicemente tra quello che tu dici e quello che viene detto e quindi viene percepito c'è una distorsione assoluta io sono molto colpito da questi dieci selfie e ringrazio Ermete Fabio perché simbola questo stimolo ce lo dà sempre no? cioè io farei un sondaggio per dire ma quanti italiani pensano che noi siamo leader nell'economia circolare e quindi nel riciclo totale dei rifiuti speciali urbani secondo me noi avremmo come dire una percentuale ma non solo del cittadino ordinario ma anche nell'ambito istituzionale noi avremmo dei dispiaceri enormi perché uno pensa ai cumuli di rifiuti pensa ai problemi pensa alle grandi città pensa alle comunicazioni su telegiornali e tu dici ma ti pare che noi siamo leader proprio nell'economia circolare proprio sul riciclo dei rifiuti quando invece come dire il messaggio principale è che noi i rifiuti ce li abbiamo per strada è difficile come dire convincere poi un cittadino che questo dato è diverso da quello che lui vede perché quello lo vede lo percepisce lo sente no? allora in questo senso credo che noi responsabilmente per andare avanti su questi processi dobbiamo e ovviamente io non mi sono soffermato Fabio sulla tua relazione cioè quella è sposata in toto il tema che hai posto i temi che hai posto sono tutti dentro l'agenda del paese non c'è dubbio devono essere tutti l'agenda del paese ma noi questa roba dobbiamo spingerla affinché venga anche percepita in maniera corretta da parte dei nostri cittadini chiudo dicendo una cosa allora noi anche qua il tema della variabilità è un tema essenziale io lo combatto e lo vivo perché insomma qualche anno nel sistema di protezione civile l'ho fatto quindi ho vissuto il sistema di protezione civile nella sua parte diciamo più iniziale quella che era in fine degli anni 2000 ho vissuto la fase come dire ipertrofica in cui si cercava di fare con gli strumenti straordinari anche le cose ordinarie ho vissuto la fase come dire in cui si è catapultato all'opposto se ci cercava di fare le cose straordinarie con strumenti ordinari e quindi assolutamente impensabili oggi siamo in una fase intermedia siamo in una fase in cui questo sistema può essere ancora utile al paese certamente per la gestione operativa e delle emergenze non c'è dubbio può essere anche utile per fare un passettino in più con quella conoscenza che abbiamo di mettere insieme livelli diversi e discipline diverse c'è da fare uno sforzo ma questo sarà uno sforzo poi parlamentare politico per capire se vogliamo andare in quella direzione si vedrà ma l'importante è sfruttare poi una cosa che è fondamentale perché poi il sistema chiamiamolo di protezione civile viene invocato ripeto spesso anche non in maniera chiara non tanto per il merito ma per il metodo cioè quello che a noi manca anche nella gestione ordinaria è un po' di metodo cioè è quello di cercare di contemperare esigenze diverse perché quella diversità di cui parlavo all'inizio significa esigenze diverse e torno all'aspetto dell'acqua se tu l'acqua la usi nella parte iniziale del bacino per dare da bere agli animali o per fare un altro tipo di attività e non ce l'hai per darla da bere al cittadino alla fine di quel corso d'acqua è chiaro che sono come dire interessi contrapposti non c'è dubbio che ci sono degli interessi contrapposti qual è l'interesse che prevale deve essere l'interesse collettivo di quel bacino deve essere una valutazione per capire che cosa è più importante che quel bacino che poi torna al territorio che torna alla solidità alla floridità di quel territorio abbia è più importante fare una scelta o un'altra solamente con una visione ampia e solamente con una visione concertata noi riusciamo a trovare queste soluzioni quindi quello che io aspico e chiudo veramente ringraziandovi e ringraziandoti Hermede perché è stata una mattinata veramente importante dal punto di vista della conoscenza della riflessione è che noi dobbiamo ampliare questa capacità di dialogo tra questi multilivelli e questa multidisciplinarità perché oggi noi viviamo dei sistemi complessi ogni filiera ha poi una sua derivazione in altre filiere ed è chiaro che se tu vai a parlare solo con quello che cura quell'aspetto ti porta alla sua posizione c'è bisogno di una visione più ampia di una visione di bene comune e con questo credo che sia quello che serve per raggiungere gli obiettivi che poi simbola da dieci anni sta portando avanti e che credo siano assolutamente indispensabili nell'ambito del futuro del paese quindi grazie davvero buon proseguimento grazie a tutti grazie a tutti